Questo sabato in Lecce sarà di scena allo stadio Ottavio Bocchietta per sfidare il Pordenone per il terzo turno, eliminatore di Coppa Italia. La formazione giallorossa, riduce dalla convincente e vincente prova di Vercelli, intende proseguire il proprio percorso a regalarsi la possibilità di affrontare la vincente del confronto tra Cagliere e Palermo. Di fronte però ci sarà una squadra di assoluto valore, che durante la scorsa stagione ha disputato le semifinali play-off e che nel turno precedente ha eliminato il Venezia di Pippo Inzaghi, imponendosi per 2-1. Roberto Rizzo non potrà contare su due elementi importanti come Costa Ferreira e Mario Pacilli, entrambi fermi ai box. I ramari di Leonardo Colucci, che dovranno fare a meno dello squalificato Riccardo Martignago e dell'acciaccato Emanuele Berettoni, dovrebbero disporci con il consueto 4-3-2-1. Con Perilli in porta, Formiconi, Stefani, Parodi ed Agostini in difesa, Misuraka, Burra e Burrato a centrocampo, Ciurria, Sainz-Masa a supporto e l'unica punta Gerardi. I salentini dovrebbero rispondere con il 4-3-3 con Peruchini tra i pali, Ciancio, Cosenza, Marino e Di Matteo nella linea difensiva. L'epore Rigoni è mancoso in mezzo al campo. In avanti, Rizzo ripropone il tridente con Caturano al centro, Tormino largo a sinistra e di piazza a destra. Arbitrerà l'incontro il signor Chiffi della sezione di Padova, calcio edilizio alle 20-30. Infine, sono state sorteggiate le prime tre giornate di campionato e Lecce nel primo turno affronterà la Virtus Francaville in trasferta. Successivamente avrà ben due scontri diretti consecutivi con Trapani e Catania, principali concorrenti per la vittoria finale.